L'artista esistenzialista, quartini e cumulativi intimiste, silenzio e preghiere disinfettano qualsiasi ferita. Ho scritto ti amo sul cuore peccato fosse con la matita, l'anima è un ambiente raccolto che ha sempre bisogno d'aria, la pace interiore è oggigiorno essenza primaria. Cosa vuol dire tutto ciò? Tendenzialmente quando ci sono delle ferite, delle lacerazioni, delle sofferenze, dei conditi raccolte o quant'altro, c'è bisogno di introspezione, di silenzio, di tranquillità, di pax interi per poter riflettere, per poter allontanare il caos che in quel momento è dentro della preghiera. È fondamentale perché ci avvicina il nostro Signore ma soprattutto ci apre degli spazi indefiniti laddove puoi poter meditare con tranquillità accurata. Mi sono permesso di scrivere ti amo, ho scritto ti amo in tempo non sospetto sul mio cuore e purtroppo l'ho fatto con la matita, probabilmente sono stato poco incisivo, mal compreso, mal capito, gli altri fanno anche le altre scelte ok, però magari dipende anche da noi come diciamo le cose, probabilmente troppo poco incisivi, chissà. Quindi questo per non dare sempre la colpa agli altri, la colpa spesso e volentieri in tutte le cose signori, con la famiglia sul lavoro dove volete è sempre 50 e 50. L'anima, l'anima ha bisogno di una libertà, uno spirito libero, libertà interiore e quant'altro, e l'ambiente è raccolto, tacito, tranquillo laddove ci sono tanti ricordi, però ha bisogno di dare, ha bisogno di libertà, abbiamo bisogno di poter fare le scelte, non possiamo essere chiusi nelle gabbie altrimenti fa in sofferenza. La pax intero, la pace interiorizzata è l'essenza primaria, quindi fondamentalmente è quello di cui abbiamo bisogno per poter vivere una vita tranquilla. Girando le dimozioni impregnano quei cieli immensi, l'anima libera ostruita da quei sensuali seni densi, la penda testarda batti becca con una quadrangolare scrivania in ciliegio beige chiaro, è stato un gran sacrilegio prenderti sul serio. Quindi c'è anche la spigolosità, uno status sferzante e quant'altro, sicuramente anche tanta nostalgia e tratteggi di tristezza. Perché? Leggirando l'emozionale, tutto quello che noi abbiamo vissuto, viviamo, eccetera, eccetera, non fanno altro che essere un prestampato emozionale negli spazi immensi, spazi bluastri immensi, cili immensi. Perché? Perché tutto quello che noi viviamo tendenzialmente lo mettiamo fuori, certamente non lo distribuiamo a chi che sia, quindi lo viviamo con chi vogliamo e poi sono diventati momenti catartici con la persona con cui siamo bene. L'anima, l'anima libera, deve essere libera, altrimenti abbiamo detto si evita le sofferenze a livello interiorizzato, però molte volte viene ostruita da quei segni densi, è un po' provocatore per dire che cosa, che siamo tremendamente materialisti, giustamente, spesso e volentieri, siamo degli animali sociali, ho preso in Italia, sicuramente degli animali, quindi legati agli istinti, e quindi dovremmo anche un po' quantomeno essere un po' più eterici, un po' più spiritualisti, un po' meno materialisti, signori, è importante, fa parte del percorso anche un uscito, una scopata, quello che volete, ma sicuramente ci deve essere un'introspezione, un intimismo, una profondità d'animo, quindi una meditazione profonda su ciò che ci accade. La penda, la penda testarda, la parte di noi che poi batti becca con gli altri, fa questioni, eccetera, eccetera, qui dico, fa questioni con una, diciamo, batti becca con una scrivania in ciliegie o becchiare, quindi è un po' il gioco delle parti, no? Questa dicotomia reiterata anche nei disguidi che possono essere quelli familiari, lavorativi, sociali, quello che volete. Ebbene, signori, la verità non sta mai da una parte, nel senso che è al 50%, quindi non ha ragione la penna testarda che batti becca sulla scrivania e non ha ragione la scrivania che subisce quel atteggiamento furtito parte della penna. La verità poi è al 50% e sta sempre in metà strada. Poi sicuramente è stato un sacrilegio, un'assurdità, è stata una valutazione sbagliata, sbagliata fate voi, ma in quel momento probabilmente percepivo altro, prenderti troppo sul serio, nel senso che probabilmente mi rendo conto che l'ammaganza di dignità, la mancanza di midollo spinale, la mancanza di serietà, il prendere la vita alla legge, la superficialità, in questi due casi non posso dire niente perché c'è una persona che vivono comunque tante cose con superficialità perché il loro modus vivendi e modus operandi ma fa parte del gioco e quindi nulla, dato che tante cose sono poste e preposte in questo modo, probabilmente chi ha fatto degli errori è giusto che lo capisca in tempi brevi, nel quale tal caso io. L'artista esistenzialista e buona giornata a tutti.